Molto bene, con Nico Geda, senti Nico ho detto prima, rientri da un infortunio, magari ti potessi infortunare anche la prossima volta così, no? Gran bei gol stasera, Valdagno ha dato dimostrazione di gioco, carattere, ha tenuto il ritmo dall'inizio alla fine, è un Valdagno ancora in crescita, peccato lì a Follonica in questo momento, però stasera buoni segnali dal paralido. Buonasera a tutti, oggi era importantissimo per noi, era uno scontro diretto, sono ancora 4 punti loro, ci mancano ancora 2 partite, penso che abbiamo giocato bene, abbiamo gestito bene, siamo entrati un po' male, ma dopo abbiamo recuperato subito. E sì, Follonica non abbiamo difeso bene, non abbiamo difeso come sappiamo noi, ma vabbè, abbiamo parlato un po' in settimana, vabbè, ora abbiamo saluto. Stasera comunque un Valdagno che ha anche ritrovato un grande affetto da parte del pubblico della Curva, anche Vercelli ha avuto i suoi supporter, io mi sono un po' esaltato lì su Gold, così da dietro la porta che hai segnato lì, va bene, comunque resisto ancora. Grazie Nico, buon lavoro al nostro Valdagno e a presto. Va bene, grazie mille e buonasera per tutti. Buonasera.